Allora, ciao dalla cucina, mi è venuta un'idea veloce e molto carina per decorare un oggetto di recupero che non si saprebbe come impiegare altrimenti, nel mio caso è un mappamondo, un classico mappamondo. Avevo da parte questa vernice che è facilissima da trovare, è una vernice ad effetto lavagna, quindi un vernice spray effetto lavagna, che ha anche potere magnetico, cioè agisce come se fosse una calamita, quindi se voi ammettete degli oggetti di metallo su una superficie dipinta con questa vernice, gli oggetti rimangono calamitati. Non devono essere di metallo però queste superfici, ok, altrimenti l'effetto si annulla, si annullerebbe. Però la plastica, il legno, il vetro va benissimo, può essere utilizzata con questo spray. Allora, soltanto questi due ingredienti, qualche gessetto per la decorazione finale, un po' di carta, magari anche dello scotch di carta per proteggere le superfici, 5 minuti di lavoro. Allora, ecco il mappamondo, adesso lo rivestiamo con la carta, eventualmente anche con lo scotch di carta, e lasciamo libero però il globo, perché la parte che decoreremo è il globo, mentre tutto il resto andrà protetto dalla vernice. Allora, ecco! Allora, ecco! Sì Ecco fatto Adesso non resta che farla asciugare Ecco fatto Ecco ho scoperto che ci voleva più vernice Io avevo una bomboletta ma ce ne vuole di più Di vernice Perché ogni tanto si stacca un magnete Però guardate funziona 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 E poi di qui La vita è bella Finito Ciao